quindi buongiorno a tutti e oggi proviamo a affrontare due argomenti e il primo che quello su cui tendenzialmente dedicheremo un po più di tempo e saranno i form questo che vedete proiettato e faremo anche un esempio partendo dal react score della scorsa volta appunto sui form la seconda cosa che faremo oggi probabilmente nella seconda ora parte della seconda la seconda lezione la seconda ora e mezza di lezione e saranno invece è dedicato a il contesto quindi a quella quell'oggetto contesto che abbiamo citato l'altra volta quando parlavamo di di stato di props e nelle slide in realtà sul contesto c'è un bel esempio che viene spiegato bene e c'è anche poi il codice già disponibile su github c'è il link sul sul sito per appunto vedere quell'esempio incontro nel codice in un progetto che è di nuovo quello del nostro react score quindi la tabella degli esami senza ovviamente il form perché è dedicato solo per il contesto e implementa una sorta di modalità privata per cui schiacciando su un bottone i voti degli esami diventano nascosti in modo che sia appunto privato solo a chi si vuole quindi come esempio però come prima cosa ci dedichiamo appunto ai form che se ricordate avevamo affrontato in maniera un pochino veloce quando abbiamo parlato di html proprio perché con react avremmo dovuto riaffrontarli con alcune differenze e alcune differenze legate al fatto che per esempio che forma html quelli che abbiamo accennato appunto settimane fa sono tipicamente inconsistenti cioè hanno modi diversi di gestire i valori gli eventi che possono venire generati da forma in base al tipo di input quindi una checkbox si comporterà tendenzialmente in maniera diversa da un campo input testuale che si comporterà in maniera diversa da un menu a selezione con varie opzioni questo in html è una conseguenza della compatibilità all'indietro che però in react non non c'è in un certo senso perché react cerca di appiattire questa differenza di comportamenti in un modo sinteti in un modo più uniforme e attraverso questi che vengono chiamati gli eventi sintetici quindi noi nel se ricorderete l'abbiamo visto nel dom in html abbiamo gli eventi di cui il form ha dei suoi eventi l'evento di cambiamento l'evento di sottomissione del form e quant'altro react non solo riprende quegli eventi ma li riprende migliorati creando questi eventi sintetici che cercano appunto di fornire un'interfaccia più uniforme rispetto ai diversi tipi di comportamenti che potrebbero accadere in un form quindi react si preoccupa per noi di fornire in maniera uniforme di fornire un'interfaccia uniforme a tutti questi tipi di comportamenti in particolare prima di vedere l'elenco di un elenco diciamo di questi eventi sintetici vediamo un campo alla proprietà value in gsx ovviamente la proprietà value per questi comportamenti sempre uniformi contiene sempre nel gsx il valore corrente del campo a cui si riferisce c'è poi un attributo che si chiama default value in gsx che contiene il valore di default che può essere stato impostato quando il campo è stato creato questo si applica anche al text area e quindi l'area di testo grande di input su che scrivere e il select dove ci sono eventuale opzioni e in cui nella text area il contenuto dell'area di testo e all'interno del valore dell'attributo value e quindi non si deve prendere come capitava nel dom da tag text area ma già c'è già questo campo value che ci fornisce il valore corrente dell'intero campo di testo e così come per sapere qual'opzione è stata selezionata non usiamo selected come come faremmo nel dom come faremmo in html ma useremmo value uguale id quindi questo id è il singolo l'elemento specifico che è stato selezionato da un menu a tendina qual'evento c'è per accorgersi dei cambiamenti degli eventi c'è un c'è un unico handler che si chiama appunto on change quindi passando una funzione a questo attributo on change che si può mettere nei form o nei singoli nei singoli anche campi input all'interno di un form ci si può agganciare agli eventi in quel campo quindi tutte le volte che quel velio quella attributo velio cambia quindi si scrive qualcosa in un area di testo si seleziona qualcosa di diverso in un menu a tendina questo on change viene chiamato e la funzione tipicamente associata all'on change viene eseguita e quindi in base al cambiamento del valore potete fare diverse cose potreste per esempio e aggiornare lo stato cambio un valore di un campo e di conseguenza giorno lo stato col nuovo valore che recupero da quel campo e on change anche la caratteristica che viene lanciato quindi questo evento viene lanciato quando si inserisce un singolo carattere in un area testuale quindi tutte le volte che inserito un carattere che scrivete un area testuale questo in change viene cambiato quindi non aspetta la fine per esempio della scrittura di un testo molto lungo ma viene appunto è lanciato ogni volta che si scrive un nuovo carattere e dato questo concetto di uniformità degli eventi funziona in maniera consistente tra i campi quindi tutti hanno i bottoni radio il select e il checkbox per esempio hanno questo evento di on change quindi quando vogliamo sapere se qualcosa è cambiato all'interno di un form che sia un input che sia una checkbox che sia qualcosa c'è questo evento on change che ci fornisce il cambiamento rispetto a quel valore cambiamento che è poi memorizzato nel comunque nel che disponibile nella proprietà nell'attributo value di ogni singolo campo in maniera simile a quello che capita in html c'è anche qui l'event tender che si può utilizzare per esempio sull'on change che viene chiamato con una solo parametro che appunto l'oggetto che è il sorgente in maniera analoga a quello che succedeva in html che è il sorgente del dell'evento quindi event punto target è appunto chi qual è non è il target cui arriverà l'evento ma è chi ha generato questo evento e in realtà alcuni eventi in base appunto al tipo di evento possono avere alcune proprietà aggiuntive a questo target che invece è comune e di standard per tutti quali sono questi eventi sintetici qui ce n'è una lista per esempio sono eventi che wrappano come dicevamo il corrispondente 20 del dom e che per quando capi quando punto quando frappano esattamente il componente del dom anche se in maniera uniforme hanno gli stessi attributi e come dicevamo prima target quindi 20 punto target punto bilio vi permette di avere l'attributo bilio quindi current il valore corrente dell'input mentre punto name è una proprietà che vi permette di avere il nome dell'evento del appunto il nome dell'elemento di input che state considerando da cui è stato generato diciamo questo evento che è richiamato che contenuto in target e questo dicevo è un elenco non esaustivo di eventi sintetici divisi per categoria vedete che ci sono eventi per esempio che agiscono sulla clipboard quindi copia incolla e potete anche sapere quindi se uno ha fatto copia incolla all'interno di un campo e reagire di conseguenza se vi interessa questa reazione e oppure per sulla tastiera se è stato ogni volta che viene premuto un tasto ogni volta che viene rilasciato un tasto e ogni volta che viene premuto invece come somma di down e up il tasto il focus quindi quando clicchiamo dentro un campo di testo quando togliamo il click dal campo di testo quello blur tutta una serie di eventi sul form non change che abbiamo detto il comune ai vari campi di input ma c'è anche on submit cosa succede quando il form viene inviato sul mouse on click on double click on drag quindi quando iniziate il drag and drop quando finisce il drag and drop eccetera 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 quindi tutta una serie di eventi questi evidenziati in grassetto sono quelli che poi si usano nella pratica un pochino più comunemente quindi quando viene premuto un tasto della tastiera quando si dà il focus se si toglie il focus a un campo di testo quelli del form quindi non change sugli input e sui vari campi del form on submit per sottomettere il form e on invalid se vuole intercettare cosa succede nel caso in cui il form non sia valido quindi contenga informazioni che non sono del formato in un certo senso corretto on load quando appunto cosa succede quando si carica la pagina, l'elemento e on click appunto che abbiamo già visto l'altra volta per l'esempio del delete che appunto permette di intercettare l'evento di click del mouse su qualunque elemento per esempio un bottone come definiamo questi event handler? gli event handler possiamo definirli in maniera analoga a quello che facevamo manipolando il DOM in React il suggerimento è quello di definire l'event handler o come arrow function o come function expression quindi in questi due modi qui se abbiamo bisogno, dobbiamo fare attenzione che possiamo anche passare il nome della funzione come proprietà a un event handler però facciamo sempre attenzione che passiamo il nome della funzione in questo modo quindi come espressione javascript ma evitiamo di chiamare la funzione quindi qui passiamo l'event handler che poi è implementato come per esempio arrow function e quindi quando, non lo so, si cliccherà questo div, quando succederà qualcosa su questo div in secondo questo handler verrà chiamata questa funzione se noi invece la passiamo con le parentesi stiamo chiamando la funzione in quel momento quindi appena questo div verrà creato questa funzione verrà eseguita immediatamente e di conseguenza l'altra cosa non bisogna passarla come stringa ma bisogna passarla come espressione quindi se vogliamo passare appunto, quando passiamo il nome della funzione come proprietà come props dobbiamo passarla come espressione allo stesso modo bisogna specificare il nome della funzione nell'event handler quindi possiamo scrivere props.hender per prendere il nome della funzione se deve passare da padre a figlio a figlio e così via non di nuovo chiamandola, non dispersamente, non di nuovo passando i parametri chiamando la funzione per lo stesso motivo di prima ma se abbiamo bisogno di parlare di passare dei parametri usiamo un arrow function all'interno del long click questo è il modo tipico anche, capita spesso anche quando non ci sono parametri che uno crea un arrow function che poi chiama l'handler con i parametri in questo modo il long click non viene eseguito subito ma viene comunque non viene eseguito subito appena questo bottone ritorna ma viene poi eseguito in un secondo momento quando effettivamente ci sarà l'evento di un click in maniera sincrona e così possiamo anche passare dei parametri a questa funzione di handler se ci servisse due parole su chi gestisce lo stato nel form e poi ripeto faremo un esercizio sul form in cui aggiungeremo un form al nostro react score e lo gestiremo quindi con i vari campi di input gli elementi del form dato che ognuno ha il suo concetto di video quindi sa che cosa c'è al suo interno in ogni specifico momento potete immaginare che gli elementi di reform sono stateful automaticamente stateful perché appunto contengono questo valore che è sempre aggiornato e sempre corrente e ricorderete che le props e lo stato sono utilizzate poi per renderizzare il componente quindi a cambiamento delle props questo lo ripetiamo a cambiamento delle props e a cambiamento del stato react rirenderizza il componente o rirenderizza la pagina in base a quello che ha poi bisogno con quei meccanismi del virtual DOM e per fare questo processo di rendering correttamente react ha bisogno di sapere quali valori devono essere poi impostati nell'elemento del form quindi a ogni cambiamento di uno dei campi di input quindi ogni on change react deve essere notificato del nuovo cambiamento del valore in modo che possa poi quindi aggiornando lo stato del componente in modo che possa far partire il rirendering altrimenti se cambia qualche valore l'utente non lo vede perché ovviamente non viene rirenderizzato correttamente il componente quindi a ogni cambiamento di stato ogni cambiamento di valore di value di un elemento di input bisogna agganciare l'on change se c'è uno stato in questo componente ovviamente bisogna agganciare l'on change e tipicamente c'è bisogna agganciare l'on change in modo da notificare react che è cambiato lo stato del componente in quello specifico momento e quindi provvedere eventualmente al rirendering degli elementi che sono collegati al form ci sono e questo lo accenniamo soprattutto per la parte dei componenti non controllati ci sono due tipi di componenti per quanto riguarda il soprattutto per quanto riguarda il form ci sono i componenti che si chiamano controllati e quelli che si chiamano non controllati quali sono i componenti controllati? i componenti controllati sono quelli di cui abbiamo parlato fino adesso quindi quando un componente in react contiene nel suo stato i valori che devono essere mostrati negli elementi dei form del form questo si chiama un componente controllato perché il react ha pieno controllo di tutto lo stato è mappato sui valori i valori riaggiornano lo stato ed è tutto controllato e gestito da react e questo è il modo ovviamente preferito di lavorare in alcune occasioni ma noi cercheremo di evitarlo potrebbe essere però utile mantenere il valore non a livello di react quindi non a livello del virtual DOM ma nell'elemento reale diciamo così HTML che corrisponde al DOM in quel caso nel caso in cui non utilizziamo gli eventi non utilizziamo tutte le cose che ci mette a disposizione React ma andiamo a utilizzare gli eventi di HTML andiamo a utilizzare le proprietà di HTML quelle pure di HTML del DOM vero e proprio in quel caso parliamo di componenti non controllati questo è tipicamente codice che è legacy e tipicamente sono componenti redondi quei componenti non controllati quindi per i form possiamo definire questi componenti controllati e non controllati dove quelli controllati sono quelli appunto che abbiamo visto finora in cui gestiamo il form interamente in React e quelli non controllati in cui il valore degli elementi del form sono in realtà memorizzati nel DOM e quindi andiamo un po' a rompere questa catena questo link tra lo stato e il valore e viceversa cosa succede in un caso di un componente controllato abbiamo lo stato come abbiamo prima quando renderizziamo un elemento del form con value uguale a x quindi lo agganciamo allo stato e un change con change x che poi alla fine andrà a chiamare set x dello stato quindi andrà a aggiornare x lo stesso quindi lo renderizziamo l'elemento di form mostra x come valore l'utente manipola questo quando manipola x viene automaticamente chiamato questo che viene aggiornato allo stato che eventualmente riscatena un re-rendering del form tutto in maniera automatico quindi impostare come scritto qui value più on change e ovviamente questo anche aggiornamento dello stato tra value e lo stato rende il componente pienamente controllato questo è il codice che praticamente racconta quello che è mostrato nella slide precedente in cui l'event handler cambia lo stato set in questo caso name fa partire l'aggiornamento del virtual DOM che poi aggiorna effettivamente il contenuto del DOM perché poi noi sotto alla fine ricordiamoci sempre abbiamo comunque il DOM che è l'unica cosa che viene interpretata correttamente dal browser quindi l'utente vede il risultato delle operazioni sul DOM non vede ovviamente il virtual DOM di React e qui appunto c'è un esempio in cui abbiamo use state con name e set name e ricordiamo che set name usiamo sempre set name perché la proprietà di stato si chiama name abbiamo un form che sul submit del form quindi quando premiamo il bottone il cui tipo è submit chiamiamo questo metodo handle submit che vedete è il nome in espressione non ha le parentesi perché non è invocato in questo momento non è chiamato in questo momento e poi c'è un'etichetta con scritto nome e un campo di testo il cui valore è name è lo stato e on change chiama handle change handle change cosa fa? chiama a quel punto come nell'esempio di prima set name col valore quindi tutte le volte che cambia il valore il valore dello stato viene aggiornato col nuovo testo che inserisco in questo campo che sarà il nome di una persona e poi qui c'è anche un esempio del handle submit che non fa in questo caso niente di che che stampara console il nome name submitted il nome che viene preso dallo stato a questo punto perché ovviamente tutte le volte che cambio il valore lo stato viene aggiornato quindi quando sottometto il form avrò già nello stato il valore corretto l'ultimo valore aggiornato e poi c'è un prevent default in modo da non scatenare che potrebbe anche essere messo come prima riga in questo handle submit in modo da non scatenare il comportamento di default del form perché? perché il comportamento di default del form sarebbe quello di fare il submit su un'altra pagina ma noi siamo e quindi ricaricare una nuova pagina o la pagina stessa comunque ricaricare la pagina che sia la stessa sia un'altra mentre noi stiamo lavorando con React che appunto è una single page application per cui appunto non vogliamo ricaricare un'altra pagina vogliamo rimanere nella stessa pagina senza ricaricarla senza fare niente ma continuando a utilizzarla e lasciando fare il lavoro di re-rendering il lavoro di aggiornamento della pagina a React quindi come vedete non è niente diciamo così di particolarmente di eccessivamente complicato bisogna solo ricordarsi sempre di fare questo mapping tra il valore l'on change e lo stato però questo fatto una volta poi diventa quasi automatico perché alla fine più o meno è sempre la stessa cosa ovviamente quello che cambierà è magari il cosa possiamo nell'on change anche se spesso sarà prendere il valore e metterlo nello stato e poi sicuramente cosa facciamo nel submit quindi quando il form è tutto tutto compilato e lo inviamo cosa facciamo con questi dati allora nel caso del nostro esempio sui voti noi avremo un form per aggiungere un nuovo esame alla tabella e quindi l'end or submit quindi questi end all change l'equivalente di questo end all change saranno i vari aggiornamenti dei vari campi il nome dell'esame il voto preso la data in cui è sostenuto che andranno a essere messi in uno stato e poi l'end or submit prenderà queste informazioni dallo stato e le aggiungerà per esempio alla tabella e nel nostro caso le aggiungerà alla tabella che abbiamo realizzato l'altra volta e nel caso dei componenti controllati non controllati che appunto non descriveremo perché sono abbastanza complicati in quanto mettono insieme parti del DOM con parti del React quindi cerchiamo di utilizzare ed è quasi sempre possibile o quantomeno lo renderemo possibile quantomeno nel corso i componenti controllati che sono molto più comodi sono molto più facili da gestire rispetto a quelli non controllati però cosa succederebbe in un componente non controllato beh succede che innanzitutto non abbiamo lo stato all'interno del componente che rappresenta il form e quindi quando il form viene renderizzato avremo un default value questa volta perché sarà il valore di default che verrà appunto assunto che sarà uguale a una certa props perché non abbiamo lo stato quindi dovremo inizializzare in qualche modo quel campo e avremo poi l'on submit non avremo l'on change che sottometterà il form quindi man mano che manipoliamo l'elemento del form l'on change non farà niente in realtà perché mostrerà sempre x qualunque cosa sia x in questo form il nome per esempio di prima sempre nel suo valore iniziale quando poi premiamo submit a quel punto la sottomissione dell'intero form se avesse anche 50 campi la sottomissione dell'intero form e cosa farà? chiamerà un metodo che è agganciato a una props del padre visto che questo non è stato e salverà le informazioni e farà lui quello che dovrà fare però vedete che mancano questi link che abbiamo fatto prima e c'è questo on change che fa più fatica a renderizzare l'elemento del form questo quindi non impostare il value più l'on change rende automaticamente il componente non controllato e React in un certo senso lo sa che non è controllato e quindi questo non controllo cade in un certo senso sulle spalle dello sviluppatore e che per esempio potrebbe preoccuparsi in qualche modo manipolando il DOM cercando di manipolare il DOM direttamente cercando di recuperare gli elementi dal DOM di aggiornare l'elemento X presente qui quando viene lanciato un change perché un change comunque viene lanciato ma gestirlo in un certo senso a livello di DOM e quindi rende le cose più complicate noi come dicevo non descriveremo non parleremo dei componenti non controllati ma useremo sempre quelli controllati che poi è quello che capita nella maggior parte dei casi attualmente però sappiate che esistono sappiate che se non fate il map tra value e un change possono succedere cose diverse da quelle descritte che si chiamano appunto rientrano nel concetto di componenti non controllati in cui questo mancanza di controllo da parte di React ricade poi come dire sulla responsabilità dello sviluppatore l'unsubmit mentre l'home change abbiamo detto è scatenato automaticamente un evento scatenato automaticamente tutte le volte che cambia un input all'interno di un form l'unsubmit è quell'evento generato dal bottone di submit di invio dell'elemento form come vi dicevo prima è bene chiamare sempre più che bene è obbligatorio chiamare sempre event.prevent.default per evitare la sottomissione del form in maniera classica in maniera tradizionale da html e quindi ricaricare l'intera pagina cosa che invece noi appunto non vogliamo perché ripeto ci pensa React ad aggiornare gli elementi della pagina e come accennavo quando parlavamo dei form in html è sempre buona norma anche se non bisogna fidarsi più di tanto della validazione client-side ma bisogna poi rifarla bene anche non solo ma anche nel server e questo lo vedremo è bene fare la validazione di tutti i dati del form prima di procedere all'effettivo submit e questa validazione si può fare sia utilizzando i check sul variabile di stato perché lo stato in un componente controllato contiene comunque l'ultimissima informazione aggiornata e anche utilizzando oppure utilizzando dei validatori tipo questo che appunto vi permette di validare più facilmente il contenuto delle variabili di stato per esempio questo validator è una libreria che potete installare e che ha per esempio un metodo che si chiama is email in cui automaticamente riconosce se il valore che avete inserito è un email nel formato corretto oppure se è di una certa lunghezza oppure se è una stringa oppure se è un numero oppure se è un numero di una certa quantità quindi tutta una serie di controlli di validazione che possono essere utili prima di nel mondo diciamo quello che faremo poi nelle prossime settimane prima di inviare questi dati a un server che magari li memorizzerà in un database quindi è buona norma validare i dati spesso quindi usiamo la validazione che ci offre HTML in questo caso JSX usiamo la validazione quando viene fatto il submit e poi quando avremo il server faremo la validazione anche lato server prima di memorizzare questi dati in un database perché ovviamente poi una volta che sono memorizzati nel database assumiamo che siano giusti corretti e puliti quindi siano accessibili e utilizzabili in maniera corretta da parte di tutte le applicazioni che si collegano a quel database c'è un'alternativa ai componenti controllati che non sono i componenti non controllati perché alcune volte come potete immaginare può essere abbastanza tedioso usare i componenti controllati perché tutte le volte che abbiamo non change bisogna ricordarsi di aggiornare il valore scusate di aggiornare lo stato corrispondente a quel valore eccetera eccetera quindi se abbiamo un form molto grande abbiamo tanti form che abbiamo tutte le volte per i singoli campi dire un change value mettere nello stato eccetera 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 si può anche fare un questo componente react ha tanti stati oppure uno stato molto grosso da gestire separatamente quindi può diventare abbastanza anche complicato se abbiamo tanti form appunto form molto complessi molto grandi però l'alternativa ai componenti controllati non è ovviamente usare i componenti non controllati perché ci portano dietro altri tipi di problemi ma l'alternativa può essere per esempio usare una libreria come usiamo bootstrap in questo momento per la parte di css essenzialmente esistono anche delle librerie molto molto usate come questo formic che è una libreria posta per gestire i form che risparmia diversi mal di pancia rispetto alla gestione dei componenti controllati e in questo caso formic riesce a mantenere le cose organizzate in un form senza nascondere troppe informazioni troppi dettagli allo sviluppatore ma senza neanche obbligarlo a fare certe cose troppo ripetitive lo stato è comunque locale ed aggiornato e formic include già la validazione e in più tiene traccia dei campi visitati e gestisce in maniera furba per esempio validando le informazioni la sottomissione del form quindi noi useremo per esempio nei laboratori i form controllati adesso faremo un esempio di form controllato però sappiate che esistono queste librerie per esempio formic è ampiamente utilizzata è molto molto popolare molto apprezzata è anche fatta bene e qui c'è il link se volete saperne di più e appunto per semplificare la gestione del form se vorrete per esempio nel progetto dell'esame visto che prima qualcuno lo accennava potreste anche usare delle librerie come formic per se avete se avrete in quel in quel progetto dei form troppo complicati o abbastanza complicati e diventa magari noioso gestirle a mano come componenti controllati se siete più comodi a usare formic per esempio un'ottima alternativa ai componenti controllati che abbiamo visto finora ecco prima di passare all'esercizio fatemi dire due cose che c'entrano con lo stato ma fino a un certo punto che c'entrano con forme scusate ma fino a un certo punto e che c'entrano invece sicuramente con lo stato di cui negli elementi controllati nei form come componenti controllati ovviamente ne abbiamo a che fare ma in realtà c'entrano con lo stato ogni volta che si usa lo stato e come facciamo a gestire gli array nello stato allora noi ricordiamo spero dall'altra volta che quando cambiamo lo stato possiamo chiamarlo in due modi sia chiamando il nuovo stato che quindi set state x aperta parentesi il nuovo stato che rimpiazzerà completamente lo stato vecchio oppure possiamo se dipendiamo dallo stato precedente possiamo attraverso un arrow function prendere lo stato precedente modificarlo e restituire il nuovo stato in ogni caso comunque dobbiamo restituire un nuovo stato che è diverso dallo stato precedente e dobbiamo rimpiazzarlo interamente ora se questi sono elementi di dati primitivi o comunque semplici non c'è appunto grossi problemi se dobbiamo aggiungere un numero a uno stato che contiene un numero è facile e non ci sono problemi nel re-rendering perché ricordiamo che ogni volta che lo stato cambia poi il react e fa partire il re-rendering e ricordate non so se l'abbiamo detto in maniera esplicita ma fatemi dire in maniera esplicita adesso che il cambiamento di stato attraverso state deve essere sempre il più possibile idempotente e diciamo puro funzionale quindi è una funzione che ogni volta che gli si passa uno stato restituisce un nuovo stato intero senza dipendere dallo stato precedente senza recuperare elementi dallo stato precedente eccetera questo può essere appunto problematico ed è una cosa da pensare bene quando si gestiscono array nello stato soprattutto array di oggetti come per esempio potremmo avere noi nel nostro esempio dei voti dell'esame o potete avere voi nel Big Lab su la to-do list in cui avrete in questo momento un array con dentro degli oggetti ogni oggetto è un elemento della to-do list allora qual è il modo corretto di gestire il modo corretto per far sì non tanto di non avere errori perché quello è facile non averli per far sì che quando poi lo stato cambia la pagina che gestisce lo stato che sia un form che sia altro cambi in maniera coerente e cambi sempre in maniera coerente e otteniate sempre un risultato giusto quindi un re-rendering corretto dello stato perché perché se fate set state per esempio e non date un nuovo array ma passate l'array vecchio quindi lo stato precedente o pezzi dell'array vecchio la pagina il componente potrebbe non venire renderizzato in maniera corretta quindi è importante che il nuovo stato sia davvero un nuovo stato quindi che non è che sia una copia se volete dello stato precedente che ritorni ogni singolo elemento nuovo quindi non vada a modificare lo stato precedente e qui vediamo vedremo tre casi come facciamo ad aggiungere un elemento se lo stato se un array è nello stato come facciamo ad aggiornare un elemento dell'array di stato e come facciamo a rimuovere elementi dove la parte come quello più critico se volete devo fare più attenzione è quella appunto di aggiornamento allora come regola ma questo l'abbiamo già detto l'altra volta bisogna dato che dobbiamo ritornare un nuovo stato ebbene ritornare un nuovo array o meglio per far sì che tutto funzioni in maniera corretta è opportuno usare un nuovo array come valore del nuovo stato e dato che tipicamente quando abbiamo un array vogliamo dipendiamo dallo stato precedente dalla versione precedente dello stato dato che è un array dobbiamo utilizzare una callback per assicurarci che nessuna modifica venga persa allora dicevamo tre casi aggiunta rimozione e aggiornamento e aggiunga aggiunta in uno stato che ha dentro l'array se vogliamo appendere alla fine dell'array precedente cosa facciamo come in questo caso se abbiamo un set list che aggiorna lo stato list che è inizializzato con un array di string abc cosa facciamo facciamo un return di old list punto concat new item dove new item è il nuovo elemento da aggiungere non facciamo push perché push ritornerebbe non il nuovo array push modifica in place l'array se ricordate e ritorna il numero degli elementi aggiungi dell'array invece noi dobbiamo ritornare un nuovo array con un nuovo valore quindi concat permette di concatenare due elementi all'interno di un array due array e quindi restituisce un nuovo array risultato della concatenazione quindi se vogliamo appendere in fondo un array per aggiungere un elemento più all'array possiamo usare concat se invece vogliamo aggiungerlo all'inizio dell'array perché ci serve perché ci teniamo particolarmente possiamo invece usare l'operatore di spread quindi facciamo un return aperta quadra il nuovo elemento da aggiungere virgola e facciamo lo spread del vecchio del vecchio stato del vecchio array di stato se non ci interessa se appendiamo all'inizio appendiamo alla fine se mettiamo all'inizio appendiamo alla fine i due metodi sono equivalenti quindi potete usare quello che preferite se l'ordine in cui gli elementi vengono aggiunti all'array non è importante e questo è un caso relativamente facile l'aggiornamento è un pochino più complicato allora per aggiornare uno stato per aggiornare lo stato che ha dentro un array il modo che vi consigliamo perché appunto è meno prono errori è quello di usare map quindi dato se dobbiamo aggiornare sempre col set list di prima abbiamo old list che è il vecchio stato cosa facciamo facciamo una nuova array che si chiama che possiamo chiamare list e poi quindi che possiamo chiamare list e poi sul vecchio array di stato chiamiamo map e map passiamo l'item di ogni singolo map e in questo caso andiamo a manipolare aggiornare l'item solo in alcuni casi quindi se j equivale a i dove i è l'indice dell'elemento da aggiornare quindi se abbiamo un solo elemento da aggiornare in quel caso aggiorniamo l'elemento e ritorniamo l'elemento aggiornato altrimenti nel caso in cui non dobbiamo aggiornare gli elementi dato che map ritorna solo quello che viene manipolato ritorniamo comunque l'elemento precedente che esisteva notate che in questo caso facciamo return item e questi sono tipi diciamo primitivi perché sono numeri e quindi possiamo sia manipolare lo stato utilizzando partendo dal vecchio item aggiungendone uno sia ritornando il nuovo il vecchio diciamo così il vecchio valore di stato se questi non fossero numeri ma fossero oggetti come in questo caso quindi qualcosa composto da un id e da un val per esempio non possiamo è sbagliato fare quello che facciamo prima quindi aggiornare un pezzo dell'item prima aggiornavamo tutto l'item ma qui aggiornare un pezzo dell'item per esempio mettere val invece di facciamo finta fo mettere new val e fare return item perché è sbagliato perché in questo caso se noi ricordiamo come è strutturata in memoria un array questi oggetti sono solo puntati dall'array quindi questo map crea un nuovo array che però continuerà a puntare al vecchio oggetto ora nonostante questo ovviamente sia lecito in javascript può creare problemi in react perché react potrebbe non accorgersi e tipicamente non se ne accorge che l'elemento è stato cambiato per cui lui si ritrova uno stesso item che aveva prima nello stato e quindi può non accorgersi che l'elemento è stato cambiato e quindi non fare il re-rendering corretto della pagina quindi come regola base il vecchio oggetto non deve mai essere utilizzato ora se un numero non c'è problema perché tanto il map fa una copia di quello ma se un oggetto il map fa una shallow copy in un certo senso dell'array dall'array vecchio all'array che restituisce in list e quindi questi non vengono copiati effettivamente quindi non possiamo modificare un valore di un item e ritornare all'oggetto in questo caso item ma dobbiamo crearne uno nuovo quindi faremo un return di item id e il suo nuovo valore e se qui avessimo più campi continueremmo a creare un oggetto con più campi potremmo anche avere una funzione da qualche parte un costruttore in un certo senso di questo oggetto e chiamare il costruttore come vogliamo però dobbiamo tornare a qualcosa di nuovo non possiamo modificare l'oggetto precedente se invece l'oggetto non è una cosa da aggiornare possiamo direttamente ritornare l'item di prima all'oggetto di prima questo perché perché tanto comunque non essendo aggiornato non importa se se React non si accorge del cambiamento perché tanto il cambiamento qui non c'è mai stato perché quello che aggiorniamo è questo elemento qui quindi quando aggiorniamo un oggetto non cambiamo semplicemente il contenuto ma ricreiamo l'oggetto nuovo anche se solo cambiasse un campo in questo modo React si accorge che l'oggetto è cambiato e può dopo che lo stato è stato aggiornato e può rirenderizzare correttamente il componente la rimozione in maniera analoga all'aggiunta possiamo farla in due modi se vogliamo rimuovere i primi elementi possiamo utilizzare il destructuring quindi possiamo prendere la vecchia lista e mettere tutto il list tranne in questo caso il primo elemento che andrà in first e poi se vogliamo eliminare first se questo è quello che non ci interessa semplicemente ritorniamo il list questo vale ovviamente se vogliamo eliminare il primo o i primi elementi perché se fossero altri elementi potremmo aggiungerli qui prima di quest'ultimo elemento quindi togliere i primi tre elementi first second and third e poi avere l'operatore di spread e list per tutti gli altri e ritornare a list se invece vogliamo fare una rimozione più precisa perché magari dobbiamo muovere l'elemento 5 in un array che ne ha 20 per esempio dobbiamo usare filter quindi aggiunta concat se ci interessa aggiungere in fondo in coda oppure possiamo usare l'operatore di spread se ci interessa aggiungere in testa o equivalenti se non ce ne frega niente dell'ordine in cui abbiamo aggiunto update dobbiamo sempre ricordarci di ritornare non solo un nuovo array ma anche un nuovo item creato da zero soprattutto nel caso in cui questo sia un oggetto o un altro array un array con un altro array funzionerebbe uguale è più improbabile che ci sia uno stato una cosa del genere ma funziona uguale per rimuovere e quindi usiamo map per modificare l'array per aggiornare l'array che è dentro uno stato per rimuovere possiamo usare o filter se vogliamo fare una rimozione più precisa oppure possiamo se vogliamo rimuovere i primi n elementi dove n può anche essere uno dell'array possiamo utilizzare il destructuring quindi l'operatore di spread in questo modo e ritornare solo la parte che non abbiamo rimosso e ovviamente anche questo è sempre un nuovo oggetto quindi la costante che dobbiamo usare sempre l'array function per fare questo tipo di funzioni quindi usare una callback e ritornare sempre un nuovo array che rimpiazzi interamente lo stato questo scusate se lo ripeto diverse volte ma è poi fondamentale ed è causa poi degli errori più comuni e più semplici relativi a questo a questo aspetto allora per finire sempre sullo stato dove mettiamo lo stato allora l'altra volta se ricordate abbiamo deciso che lo stato in un componente lo spostavamo in alto fino a table se non ricordo male e abbiamo fatto due ragionamenti su perché table poteva essere un buon posto non era l'unico posto e quello che abbiamo fatto l'altra volta è quello che qui è scritto state lifting per gli application component o container component quindi spostiamo i componenti fino al container che ci interessa di più con quei ragionamenti che abbiamo fatto l'altra volta nell'esercizio e dove mettiamo invece lo stato nei componenti di presentazione perché in un form l'abbiamo appena visto non ci conviene spostare lo stato sul container del form perché ogni volta che cambia value dobbiamo aggiornare lo stato quindi non avrebbe senso poi farsi passare tutte le volte lo stato dalle props allora per i componenti di presentazione come form come le tabelle ma non nel nostro caso l'abbiamo messo poi in una tabella come le liste come widget e quant'altro in cui probabilmente avranno bisogno di accedere direttamente loro allo stato e buona norma che loro contengono uno stato locale che rappresenti le loro proprietà che andranno poi a mostrare quali sono queste proprietà potrebbe essere l'ordine del sort potrebbe essere se aperto o chiuso se sono appunto attivi o messi in pausa eccetera quindi è uno stato che o manipolano direttamente come nel caso del form e del value o uno stato che interessa solo a loro l'ordinamento all'interno di una tabella o all'interno di una lista se la lista è aperta e collassata se vediamo solo i primi dieci elementi o vediamo tutti gli elementi sono tutte informazioni di stato che sono importanti perché se sono a pagina 1 in cui vedo i primi dieci elementi ovviamente è un'informazione che io devo sapere perché se sono a pagina 5 vedrò altri elementi e devo ricordarmi di essere a pagina 5 piuttosto che essere a pagina 1 e questo stato ovviamente non è di interesse fuori dal componente quindi non ha senso spostarlo al di sopra quindi lo stato che ha senso che sia visto da più componenti valgono i ragionamenti che abbiamo fatto l'altra volta per quei componenti di presentazione che possono avere oltre magari allo stato come appunto come nel caso dei form uno stato locale magari sul contenuto effettivo del form in questo caso ci possono anche essere altre proprietà di stato come l'ordinamento e quant'altro che possono avere il loro interesse solo in quel componente e quindi per l'altra volta vostro collega l'ha chiamato minimi privilegi utilizzando in un certo senso la stessa logica dato che quello stato se la tabella è lunga o è corta se è ordinata alfabeticamente dall'A alla Z o viceversa dato che questo non interessa ai componenti superiori per il minimo privilegio lo manteniamo all'interno del componente di presentazione l'ultima cosa sullo stato e dato che ovviamente noi possiamo creare lo stato che gli stati che vogliamo noi possiamo sia andare da un eccesso all'altro un eccesso è avere un unico stato con tutto dentro quello che ci interessa e questo in generale non si applica solo ai componenti di presentazione o a quelli di applicazione o container quindi noi potremmo avere un unico stato con tutto dentro tipo una variabile state e uno set state per dirla col metodo e col nome della variabile oppure d'altra parte potremmo avere uno stato con ogni singolo elemento della variabile quindi name set name surname set surname age set age score set score eccetera ora mentre alcune di queste cose sono probabilmente obbligatorie o comunque fortemente consigliate se dobbiamo gestire un form in generale è buona norma non avere né uno stato troppo complicato quindi tipo un unico stato con dentro tutto né troppi piccoli statarelli perché poi per aggiornarli e tenerli in sync diventa poi un pasticcio e diventa poi molto complicato per cui quando aggiorniamo il nome dobbiamo aggiornare anche il cognome e anche l'età e anche tutto ovviamente dobbiamo chiamare 40 volte set state per aggiornare tutti i componenti quindi il suggerimento è cercate di creare stati che non siano troppo grossi anche perché poi tutte le volte che lo modificate dovete modificarlo interamente restituire un nuovo stato ma dall'altra parte che non siano neanche troppo piccoli e che quindi rappresentino se volete il livello minimo di informazione che ha senso che stia insieme in base a quello che deve fare la vostra applicazione web in React domande fin qui adesso vediamo poi un esempio adesso anzi vediamo l'esempio su andiamo ad aggiungere un form domande siete tutti scappati domande ci siete ancora sì qualcuno risponde grazie quindi domande niente tutto chiaro tutto abbastanza digerito finora sì suppongo sia tutto digerito finora non che ci siano domande ok come vedete con React stiamo andando un pochino più no un pochino stiamo andando più lentamente rispetto a come andavamo prima con JavaScript e soprattutto con HTML proprio perché appunto adesso facciamo i form ci preoccupiamo dei form poi aggiungiamo un altro elemento l'altra volta abbiamo fatto solo praticamente lo stato in modo che siano ben nonostante non siano magari praticamente complessi ma si riesca bene ad approfondire e a provare le varie cose allora aggiungiamo un form a questo a questo a questo nostro progetto dell'altra volta questo è esattamente quello che abbiamo fatto l'altra volta insieme e quello che vogliamo fare è qui aggiungere un bottone che apre un form che poi ci permette di aggiungere un esame a questo a questo elenco quindi un form che faccia l'aggiunta nello stato e ricordate poi ecco le slide che vi ho raccontato sull'array dello stato ecco quando noi andiamo andremo magari a premere questo bottone modifica quello è una modifica di un campo all'interno di un appunto dello stato che sarà dentro un array quindi questo è esattamente dicevo il progetto dell'altra volta e l'altra volta e a un certo punto prima di finire giusto per completezza eravamo arrivati a questo codice qui non così ovviamente non qui scusate sì qui in cui avevamo avevo scritto così e lui non funzionava e in quel momento non mi è venuto in mente perché non funzionava perché questo non funziona poi dopo tre ore forse non era il caso di pensarci ma perché questo ovviamente non funziona non aggiorna lo stato se è scritto così con le parentesi graffe questa è una raw function questo è javascript normale un problema relativo a javascript un problema un errore esatto ci vuole il return quindi l'altra volta l'avevamo scritto così non funzionava e poi togliendo le parentesi graffe ovviamente è cominciato a funzionare perché con le parentesi graffe giustamente ci vuole il return perché si potrebbe aspettare anche un corpo di funzione più grande di una riga e quindi ci vuole il return per dire che cosa deve ritornare senza le parentesi graffe il return è implicito e quindi ritorna tutto ritorna il risultato di questa singola operazione perché senza parentesi graffe potete avere solo un'operazione quindi questo era il problema che l'altra volta abbiamo detto non funziona togliamo le parentesi graffe ma volevo sottolineare perché ovviamente non funzionava perché poi appunto magari nella pratica sono queste piccolezze che che bloccano tutto e uno non ci pensa più che gli mancava il return bene ora questo è l'exam component dell'altra volta esattamente identico a quello dell'altra volta e vogliamo aggiungere un form allora dove lo aggiungiamo il form beh dobbiamo aggiungerlo sotto la tabella quindi possiamo aggiungerlo nell'exam table quindi in fondo all'exam table qui potremmo creare un componente che si chiama exam form per esempio e poi adesso andiamo a riempirlo e lo creiamo poi qui sotto quindi function e questo è un altro componente exam form in cui probabilmente avremo bisogno delle props quindi inizio a dargli delle props ok cosa avremmo bisogno di mettere nel form beh nel form avremmo bisogno di avere l'elenco dei corsi probabilmente l'elenco dei corsi essenzialmente poi qualcosa per raggiungere un esame per raggiungere un esame ora qui ci dà errore vi ricordate perché ci dà errore? esatto perché dobbiamo tornare a un elemento solo e noi ne stiamo ritornando due table exam form e quindi ci vuole fragment o un div o un qualcosa in questo caso è meglio fragment allora exam form sicuramente dobbiamo passare gli corsi perché se no non possiamo aggiungere un nuovo corso e quindi passiamo in una props che si chiama courses che se ricordate era in un'altra props era ereditata diciamo così dal padre quindi questo exam table che riceve delle props e da exam score e riceve e passavamo questo courses che a sua volta veniva passato da app se non ricordo male quindi questo courses adesso andiamo a passarlo qui insieme a questo courses cosa avremo bisogno avremo bisogno per esempio di di un ad exam probabilmente quindi di un qualcosa che ci permetta di aggiungere un esame a poi la tabella quindi exam e facciamo ad exam che poi adesso andiamo a creare andiamo a creare dopo sì scusate ok poi prima di andare a vedere i vari passaggi di proprietà creiamo il form vero e proprio creiamo il componente poi aggiungiamo questo metodo ad exam qui anzi possiamo aggiungerlo sotto delete exam possiamo fare un metodo che si chiama add exam che passa un esame e come il delete cosa fa? fa set exams questa è la collezione di tutti gli esami quindi exams che sono gli esami vecchi e va bene anche la parentesi e qui dobbiamo aggiungere come lo aggiungiamo possiamo aggiungerlo per esempio con l'operatore di spread quindi exams virgola exam così ritorniamo un nuovo un nuovo array che ha tutti i valori dell'array precedente più quello nuovo che andiamo a passare quindi sarà sicuramente nuovo e quindi react saprà che può aggiornare la tabella perché questo ovviamente è nuovo ora andiamo a creare questo form e partiamo dal return allora cosa ritorniamo? beh stiamo usando bootstrap react bootstrap quindi possiamo andare a vedere i form come sono i react bootstrap così possiamo utilizzarli nei componenti form vedete che prendiamo questo come esempio i form hanno iniziano con tag form quindi in questo caso il fragment non ci serve poi hanno in questo caso un gruppo che contiene l'indirizzo mail il campo per la mail e questa sottotitolo e poi un altro gruppo che contiene questa la password il campo per la password e questo check me out questo check box e poi fuori dal gruppo questo bottone che è il bottone di submit quindi andiamo a creare una cosa simile a questa quindi form con la lettera maiuscola perché è un componente di bootstrap e dobbiamo importarlo se non lo fa da solo perché stavamo importando col table ma dobbiamo importare form e poi dentro form ci vuole questo gruppo form.group e con control id che è appunto un modo per tenere insieme queste cose e possiamo chiamarlo selected course quindi corso selezionato e all'interno cosa ci mettiamo del primo gruppettino beh è un form dobbiamo aggiungere un esame e ci serve il corso ci serve il voto e ci serve la data quindi avremo tre gruppi e poi il bottone submit quindi il primo gruppo è il corso quindi ci mettiamo un'etichetta forum.label come qui e in form.label andiamo a scrivere per esempio corso quindi il corso che andiamo ad aggiungere e poi ci serve questo form.control che appunto ci permette di avere un campo di input form.control che tipo di controllo mettiamo mettiamo un campo di input libero mettiamo cosa potremmo mettere qui qui ci sono i corsi cos'è secondo voi meglio mettere qui qui dobbiamo lo ripeto indicare il corso che vogliamo aggiungere un menu a tendina qualcuno stava scrivendo basta siete d'accordo con un menu a tendina sì almeno in tre sì il menu a tendina è la cosa migliore perché a quel punto abbiamo già l'elenco di corsi la passiamo dalle props in realtà e quindi a quel punto basta selezionare il corso che vogliamo e non dobbiamo far sì che la persona scrive il nome e poi andare a controllare se c'è qualche errore nel nome o nel codice del corso eccetera quindi un menu a tendina si chiama vedete questo form control è di tipo normale non ha nessuna proprietà ma se andiamo a vedere sotto come si fa nel menu a tendina tipo questo che è quello che interessa a noi e si indica così as select e poi ci sono le varie opzioni che devono comparire all'interno della tendina quindi form control as select e poi le varie opzioni che a questo punto le sappiamo sono in props punto courses quindi per ognuno dobbiamo generare un nuovo un option con dentro il per esempio il codice del corso che poi alla fine è quello che ci che ci interessa o col nome del corso o con tutte e due no? le proprietà quindi una tendina con queste cose quindi props punto courses come abbiamo fatto precedentemente quando andavamo a creare tanti elementi della tabella possiamo fare props punto courses punto map quindi per ogni singolo elemento per ogni singolo corso della mappa scusate della collezione di corsi andiamo a inserire un option un option che avrà come etichetta che appare cosa potremmo mettere come etichetta che appare per esempio il nome e cosa ci serve indicare qui non sarebbe meglio mettere una tendina sui corsi che non sono stati già giunti sì assolutamente sarebbe meglio ovviamente qui non usare tutti i corsi ma fare un filtro e prendere sui corsi che non sono negli esami e quindi passare qui anche esami però dedichiamo il tempo come dire strategicamente dedichiamo il tempo al form quella è una raffinatura che sicuramente sarebbe importante avere essenziale tutti quelli che non sono negli esami sarebbero da escludere però bisognerebbe fare un diff tra i corsi e quello che sono gli esami perché qui ci sono invece tutti i corsi che hai nel carico però assolutamente sì sarebbe meglio fare così qui cosa manca manca sicuramente chi perché è una collezione di cose quindi andiamo a mettere chi chi sappiamo che deve essere univoca all'interno della collezione qui ce l'abbiamo già una cosa univoca che è il codice del corso che non mi ricordo come ho chiamato fatemi vedere che ho chiamato code ok quindi qui ci vuole chi dobbiamo dobbiamo anche definire value che è il valore che prenderà il campo quando viene selezionato perché non è che dobbiamo ma ci conviene definire value perché noi nella lista degli esami nella tabella degli esami nella collezione degli esami quindi qui in app da dove partiamo per generare quella tabella non abbiamo il nome del corso ma abbiamo solo il codice e quindi ci viene bene associare al nome il codice e mettere nel valore non tanto il nome del corso che tanto non ci interessa memorizzare qui ma mettere direttamente il codice dato che questa struttura ovviamente non contiene all'interno il nome ma contiene solo il codice fu stata diversa potevamo evitarlo quindi possiamo mettere un value che è course.code quindi in base al nome che viene selezionato poi noi recupereremo nel valore il codice del corso corrispondente che è quello che ci serve per la tabella esami a questo punto poi c'è la fine del control group a questo punto dobbiamo aggiungere qualcosa a questo form.control perché? perché ricordate cerchiamo di fare un componente controllato e quindi ci vuole l'on change l'on change che non viene fatto a livello di option non so se qui c'è un esempio ma non viene fatto a livello di option ma viene fatto a livello di form.control perché option come vedete è scritto con lettera minuscola quindi è un componente che deriva direttamente dal DOM mentre questi sono componenti custom di creato appunto da bootstrap quindi qui ci serve l'on change l'on change che come parametro prende un evento e adesso andiamo a decidere cosa fare ma insieme all'on change ci serve anche il valore perché l'on change cambia il value e il value è course perché il value è course perché così andiamo poi a prendere quello che deriva da qui sotto e ok cosa mettiamo qui cosa mettiamo qui ci serve abbiamo detto aggiornare lo stato associato a questo form quindi ci serve lo stato quindi const chiamamolo corso set corso uguale use state e lo inizializziamo magari con le virgolette perché non sappiamo come inizializzarlo un corso di default e a questo punto quando viene selezionato un un qualcosa da questo elenco possiamo fare set corso e passare che cosa event punto target quindi quale option è stata selezionata punto value quindi il codice del corso che è questo il codice del corso che è nel value poi qui come diceva il vostro il vostro collega aggiungiamo questo commento così ce lo ricordiamo to do non inserire i corsi di cui già superati puoi ripetere cosa vuol dire value course code course name allora course name è quello che appare nell'elenco a tendina no nell'elenco a tendina quando aggiungiamo un nuovo corso facciamo leggere al nostro utente non 01FX qualunque roba ma facciamo leggere applicazioni web 1 no perché se tu immagini come che questo sia uno studente che lo usa è più facile che si ricordi il nome del corso che è appena superato e piuttosto che il codice associato a quel corso però quindi questo è quello che appare a schermo course name il nome del corso però noi nella nostra struttura dati finora questo di esami non abbiamo il nome del corso ma abbiamo il codice del corso e quindi il value che è associato a quel nome che visualizziamo a schermo ci interessa sia il codice del corso e non tanto il nome del corso no il simbolo di maggiore non c'entra niente nel senso che è così adesso provo ad andare a capo ma c'è course name e dentro il tag option sì qui ovviamente mischiamo una sorta di html con con javascript quindi questo è il tag option questa è la chiusura del tag option e questo è il contenuto del tag option come se fosse p posso anche lasciarlo così a capo ok stavamo dicendo set course impostiamo il corso e che in questo caso il codice del corso ecco dato che il nostro stato all'inizio parte con virgolette virgolette e che nella nostra lista di opzioni abbiamo solo qualcosa che è un codice di corso che non è ovviamente virgolette virgolette dovremmo avere un'opzione all'interno del qui all'interno che corrisponda a questo virgolette virgolette cioè se vogliamo è come se volessimo definire un default value così lo usiamo che è uguale a virgolette virgolette e allora se abbiamo un default value che è uguale a virgolette virgolette abbiamo bisogno come è in questo caso lo stato del corso abbiamo bisogno di un option che potrebbe essere seleziona è tutto in inglese quindi chiamiamolo choose choose one che ha come valore virgolette virgolette che è quello che inizialmente lo stato avrà quindi inizialmente questo sarà questo quando apparirà il form della pagina apparirà con scegli uno poi se noi volessimo non ci piace vedere scegli uno potremmo metterlo nascosto e anche disabilitato così c'è è quello selezionato di default però è nascosto disabilitato e quindi non si può selezionare è importante che sia disabilitato soprattutto perché è così il form non può essere sottomesso con il nome del corso equivalente a scegli uno perché poi se no andremo a giungere nell'esame un corso che si chiama scegli uno cercheremmo di aggiungere in questa tabella degli esami un corso che si chiama scegli uno e poi possiamo anche nasconderlo così preveniamo ancora di più questa possibilità di errore però ripeto in un certo senso ci serve questo virgolette virgolette perché lo stato inizialmente di course che è quello che passiamo qui nel valore che andiamo ad aggiungere che andiamo a poi modificare con l'on change è ovviamente e all'inizio è virgolette virgolette ok questo è per l'elenco di corsi poi dobbiamo fare una cosa analoga quindi form.control abbiamo detto l'elenco di corsi il voto quindi control id come prima uguale selected score così ci ricordiamo che è sul voto come prima mettiamo un form.label in cui andiamo a scrivere score e in questo caso ci serve un campo di testo in cui andiamo a scrivere il numero del voto e quindi form come prima appunto control scusate questo è form.group allora questo è form.group il gruppo sul corso poi ci serve un gruppo sul sullo score poi ci serve un gruppo sullo score e poi ci servirà un terzo gruppo sotto form.group che sarà invece sulla data control id uguale selected date ok così possiamo mettere gruppi già fatti ed evitiamo di fare pasticci con le chiusure dei tag quindi score qui ci servirà un form.control più semplice perché ci basta un'etichetta di testo in cui scrivere il numero se vogliamo quindi form.control type se guardiamo nella documentazione c'è la type password type text ma è anche analoga a quello che succedeva con html abbiamo un type number possiamo definire un minimo massimo esattamente come facevamo per html quindi possiamo dire che questo campo accetta come minimo un valore 18 una prima validazione se volete e come massimo un valore 31 così possiamo anche includere la load e anche qui abbiamo bisogno di value e di un change in questo caso è solo un campo non abbiamo tanti come le option quindi in maniera analoga creiamo un altro stato che chiamiamo score set score con use state che possiamo inizializzarlo a 30 o a 18 come vogliamo e quindi qui possiamo scrivere value uguale score e set no scusate on change uguale di nuovo l'evento in arrow function che fa set score passando event punto target punto value quindi quando andremo a cambiare il valore di questo numero il value cambierà e verrà poi chiamato all'on change che passerà questo value allo stato che di nuovo aggiungerà il value che viene visualizzato tutto ovviamente gestito da React ok ci siete? troppo veloce troppo lento il compone è già importato in realtà solo che volevo finirlo con il form finiamolo poi vediamo se riusciamo a vedere qualcosa perché mancano dei pezzi anche sopra è solo che è fermo il progetto però finiamo questo ultimo gruppo e mettiamo il bottone summit e poi proviamo a farlo eseguire e vediamo se abbiamo i pezzi che ci servono per per visualizzare tutto non ho ben capito il valore di video nell'interno del form control allora l'interno del form control form control è l'elemento del form per esempio il nostro questo prendiamo nel caso del del numero per esempio questo ecco in questo caso un email ma questo allora value è quell'attributo che viene automaticamente modificato tutte le volte che io scrivo qualcosa all'interno di un campo quindi in questo momento react starebbe aggiornando il value in continuazione ora quando io aggiorno value in un componente controllato se voglio gestirlo come componente controllato quando aggiorno value quando value si aggiorna viene chiamato l'evento on change dato che è un evento controllato io devo tenere sempre sincronizzati lo stato con value quindi quando qui scrivo qualcosa l'on change viene chiamato e in questo caso metto nello stato il valore che ho inserito in questo caso Luigi facciamo finta quando metto nello stato il valore che ho aggiornato react vede che lo stato è cambiato e quindi fa il re-rendering del del componente rimettendo dentro value il valore di Luigi quindi facendomi apparire qui sempre Luigi correttamente anche quando cambio campo quindi questa è la caratteristica dei componenti controllati avere value avere un change e avere il mapping tra value e un change e lo stato definito come use state ok facciamo e e poi vediamo se riusciamo già a vederlo o se ci sono degli errori mancano dei pezzi perché ovviamente non è finito facciamo l'ultimo gruppo e cosa scriviamo qui provate a dirmelo voi controlli di controlli di è una caratteristica è una cosa che ci richiede che fa usare react bootstrap lo dice qui per assicurare l'accessibilità settate ctrl ed on for group e utilizzare from label quindi è un qualcosa che serve a e soprattutto a per motivi di accessibilità quando viene poi renderizzato nell'html vediamo come viene poi renderizzato nell'html per l'accessibilità quindi per dire che quello è un gruppo che è un contenitore che ha un certo scopo e questo scopo è selective score quindi serve soprattutto a scopo di accessibilità quindi è bene averlo dicevamo cosa scriviamo qui dobbiamo mettere la data sì form label date ok allora copio quello che dice Gabriele quindi form label date sì ho scritto correttamente ovviamente poi form.control type date perché ovviamente esiste giustamente e on change io copio identico poi lo sistemiamo e ovviamente qui ci vuole un form controller adesso mi dà errore ma è normale così in realtà potremmo anche scriverlo senza questo così abbiamo meno ok e poi ovviamente non on change così ma on change uguale qualcosa e non solo on change è uguale a qualcosa ma ci siamo dimenticati cosa ci siamo dimenticati che va sempre pare passo con non change value esatto allora value a questo punto cosa vado a scrivere qui dentro prima prima di scrivere qui dentro cosa devo fare qui ci sarà sempre event bla 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 cosa devo fare prima di scrivere qualcosa dentro value on change dobbiamo aggiungere un nuovo stato sì in questo caso conviene avere uno stato piccolo perché così riusciamo a gestire le cose separatamente potremmo anche avere uno stato più grosso e avere degli on change che chiamano un altro metodo che aggiorna tutti gli stati però è più facile così soprattutto su un form non tanto grande quindi const possiamo chiamarlo date set date infatti mi ripeto un'altra volta che è estremamente importante chiamare il set qualcosa come il nome della variabile che abbiamo definito prima per lo stato e use state possiamo mettere un oggetto djs che rappresenta la data attuale quindi djs aperto e chiusa parentesi è la data di oggi e la data che viene utilizzata djs è importato in app se non sbaglio quindi dovremmo sì perché se no non potremmo usare il format qui ok djs quindi qui in value cosa andiamo a scrivere a questo punto date scriviamo 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 date.format e usiamo lo stesso formatting dell'altra volta questo e poi sull'on change ormai lo sappiamo sull'on change si set date event.target punto value perché così prendiamo il valore di questo campo e ci serve una cosa in più in questo caso perché ovviamente noi stiamo usando le date in formato djs in tutto anche dopo quindi ci conviene già qua avere un oggetto di tipo djs e quindi dobbiamo scrivere djs di questa cosa qua in modo che venga convertita perché qui quando viene scritto qui è testo testo in un formato specifico dobbiamo poi convertirlo in djs anzi formato mettiamo quest'altro formato che non so esattamente se quel formato funzioni con djs invece questo sicuramente sì per creare un nuovo oggetto djs e salviamo manca ancora una cosa e poi è possibile in questo caso insieme a data minima non mi sembra che min sia disponibile per il tipo data però non ne sono sicuro controlliamo se qua c'è scritto soprattutto o se ovviamente no date input min direi di sì sì potremmo anche usare min sì potremmo anche usare min e anche max se volessimo sì potremmo se mappa interamente sull'html è cosa che è probabile sì non servirebbe il format anche in estate no perché il format serve per visualizzare soprattutto perché questo video è quello che viene visualizzato poi alla fine quindi il format in questo caso non ci serve perché lo suggeriremo già in un certo senso in questo formato e in realtà adesso non so cosa comparirà e quindi speriamo che non dobbiamo riformattarla anche perché questo non è un oggetto di tipo djs potremmo applicarlo qui il format ma a quel punto verrebbe riempito lo stato con il format per cui lo rifaremo di format quindi ci sono dei format di troppo e poi comunque viene usato soprattutto per visualizzare il format o unicamente per visualizzare ok allora vi dico il format sempre per visualizzare e poi in ogni caso se lo passassimo qui lo passeremo dopo djs quindi memorizzeremo un oggetto djs che non è un oggetto djs ma una stringa e quindi poi qui avremo dei problemi ci manca solo una cosa che è il bottone di submit che possiamo chiamare save e che serve appunto onclick endosubmit notate endosubmit solo il nome adesso andremo a definirlo e poi se vogliamo possiamo fare ancora un altro bottone con variant secondary quindi ricambiamo l'aspetto che chiamiamo cancel e poi vediamo se aggiungerci una proprietà un qualche un click dentro potremmo e a quel punto facciamo un endosubmit qui che lasciamo vuoto in questo momento così proviamo a aggiungere che sarà un arrow function che prenderà l'evento anche lui perché gli arriverà l'evento di submit e sicuramente faremo event .prevent default come abbiamo detto così evitiamo di inviare form ora andiamo a farlo partire così vediamo se ci siamo persi dei pezzi sì allora button ci siamo dimenticati di importarlo e poi anche djs dobbiamo importare ok import djs from djs ok djs is not defined vabbè adesso ci pensiamo dopo la pausa vediamo intanto se funziona a questo e poi non c'è più djs no non djs dovrebbe essere già installato perché l'avevamo già prima per visualizzare le cose e const djs require no perché serve solo su server side quindi giusto import certo allora poi lo sistemiamo dopo la pausa adesso facciamo pausa così guardo con calma dove è finito qui rimettiamo djs e togliamo il bottone ok quindi qualcosa nell'endor submit probabilmente ok comunque questo no è il nostro form in cui qui andremo a scegliere il nome del del corso quando andiamo a scegliere il nome del corso andiamo a aggiornare automaticamente lo stato qui lo score possiamo diminuirlo aumentarlo non possiamo andare sotto il 18 e se scriviamo 15 lui ce lo accetta perché ovviamente poi dovremo controllarlo nel nel submit e in date possiamo selezionare la data in questo caso ci si fa vedere in questo formato e se ne frega abbastanza del format di del value perché Chrome il componente data lo visualizza in questo modo col menu a tendina altri browser potrebbero visualizzarlo lo visualizzano sicuramente in maniera diversa allora se dici che è così proviamo aveva agganciato male VJS quindi sì anche col bottone funziona col bottone cancel che non fa niente il bottone save si chiama l'endor submit che in questo caso non fa niente perché fa solo prevent default ecco prima di fare un po' di pausa volevo farvi vedere quello che l'altra volta non siamo riusciti non sono riuscito a farvi vedere e che è e non so quanto lo vediate perché è piccolino che è il plugin di di React in questo caso per Chrome per Firefox funziona in maniera esattamente identica che vi fa vedere tutti i componenti quindi la struttura della pagina in componenti come come abbiamo definito noi quindi per esempio la tabella è un exam table e dentro l'exam table c'è questo anonymous che è il fragment e poi c'è la riga eccetera e andando a selezionare un elemento un componente vedete le sue props e potete anche cancellarle o modificarle e anche per esempio sull'esame se cancelliamo il terzo esame andiamo a cancellare da qui e potremo vedere cosa succede in questo caso niente perché non aggiorano lo stato e anche sullo stato possiamo andare a modificare a cancellare lo stato ovviamente vedete che cancellando lo stato cambia anche qui così come se lo modifichiamo cambia anche la tabella e e questo ovviamente per tutti i componenti singoli compresi il bottone compresi il form che abbiamo appena aggiunto tra cui anche la proprietà children che rappresenta tutti i figli del di un certo elemento e poi ci sono altre proprietà interessanti per esempio si può sospendere un componente se si vuole bloccarlo e si può anche vedere con questo occhio l'elemento DOM corrispondente quindi per esempio su form group ne potremmo schiacciare qui e lui ci porta a vedere qual è l'elemento DOM corrispondente in HTML che React ha generato per tutti quelli per tutti i valori che abbiamo definito quindi questo è molto comodo anche per debuggare e capire se magari c'è qualcosa che non va se cosa succede per fare una modifica veloce qui senza andare poi a toccare il codice in maniera prima di andare a toccare il codice poi saluta per capire se arrivano tutte le proprietà se le proprietà sono aggiornate se arriva lo stato se lo stato è aggiornato in ogni singolo componente che si vuole questo solo per perché l'altra volta non non siamo riusciti a vederlo ok io quello che farei adesso è 10 minuti di pausa e riprendiamo alle 10 e 25 grazie grazie grazie